Finalmente SEP c'è, il nuovo distributore di carburanti a mercato libero a Gubbio in via dell'Arboreto. Agenzia Unipol Sai a Gubbio in via Pierluigi da Palestrina 2224, agente Cecchetti Mirella. Buonasera, ben ritrovati con l'appuntamento Metodi TRG. Andiamo ad analizzare la situazione che vede ancora quella che in gergo si chiama una falla iberica, cioè una depressione presente sulla penisola iberica, sulla Spagna e Portogallo, che a più riprese si allontana e si avvicina anche verso il nostro stivale. Come possiamo vedere invece l'alta pressione è centrata sul nord Europa e in particolare sul lato orientale della nostra penisola. Questa depressione che è presente ora sulla Spagna si avvicinerà diciamo a metà settimana anche sulla nostra penisola causando un'instabilità pomeridiana come accaduto nelle precedenti settimane. Andiamo a vedere ora in dettaglio la situazione per martedì 5 giugno, situazione che vedrà la nostra regione sotto un clima di alta pressione, però con un tempo abbastanza nuvoloso. Soprattutto nella seconda parte della giornata avremo nuvole in aumento e qualche piovasco a partire dal settore ovest della regione, lago Trasimeno e alta valle del Tevere che si estenderà anche al resto della regione durante il corso della giornata. Qualche piovasco sparso come detto soprattutto in Appennino. Avremo le temperature minime in lieve calo che si attesteranno intorno ai 10-12 gradi, così come le temperature massime che si attesteranno intorno ai 25-28 gradi. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.